50 anni di burning in Italia, che valore ha generato l'azienda nel nostro paese e quali sono le proiezioni nel 2023? Abbiamo creato valore in tante aree, economico, per i pazienti, ambientale, occupazionale, abbiamo circa 1.000 dipendenti ormai in Italia, diretti e come indotto anche arriviamo a 3.000 persone che dipendono da noi. Abbiamo fatturato l'anno scorso 750 milioni di euro, questo grazie a un percorso di innovazione, abbiamo investito 22 milioni di euro l'anno scorso nelle nostre fabbriche, negli ultimi 10 anni erano 150 milioni e anche negli prossimi anni sono previsti 15 milioni di anni minimo all'anno investimenti. L'aurope 2023 è molto positivo, sicuramente cresceremo in tutti i business e soprattutto i nostri siti produttivi che producono 95% per l'export, cresceranno entrambi anche l'anno prossimo. Grazie a tutti!